Finché non ti abbiamo trovato una via d'uscita, pensa al tuo obiettivo, il treno. Cerca di prenderne il controllo. Ricevuto. Il treno è diretto all'aeroporto. Se il colonnello lì prende il container, è finita. Abbiamo visto cosa sanno fare quelle creature. Ora è difficile dire quale sia la minaccia più grave, se i coreani o queste creature. Ma in ogni caso, se lì riuscirà a mettere le mani sul container che sta inseguendo, per noi sarà un vero disastro. Cioè, lo sto sparando da sempre e non muore. E' un piccolo terreno. No, 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 cambia. Forse è meglio prendere qua l'arma. Dovrebbe girare tutto a tondo. Ottimo. Sì, tu chi sei? Dovevo farlo. Era bellissimo. Mi sento molto Rambo. Tanto, mi sento. Tanto, tanto Rambo. Ancora. Ciao, pianta. Ciao, pianta. Eh, come sempre. Devo farlo. Oddio, la sfera. Oddio, la sfera. Ci stiamo avvicinando alla sfera. Oh, eh, eh. Piano. No, non c'è freddo. Non si sa mai. Anzi, blocchiamo che è la strada, va. O'Neal. O'Neal. Che rottura di palle, che sei lo, Psycho. Sai quanto tempo ho girato qui intorno per cercarti? O'Neal, che cosa ci fai qui? Signora, ho portato alla base marine, ora sono di ricerca e soccorso. Vai qui comando io, e non voglio invasioni di campo. Pensa pure ai fatti tuoi, ma non interferire con la mia missione, chiaro? Sì, signora. Vedo un camioncino. Credo che il treno stia rallentando. Cosa vogliono fare? È un sistema automatico. Si ferma alla prossima stazione. Cerca di bloccare lì il treno. Invio un VTOL per il recupero, ma ci vorrà un po' di tempo. Vedi uno scambio o qualcosa del genere? C'è una torretta sopra i binari. Che sia un posto di controllo? Così sembra. Andrò sul posto e farò saltare tutto quanto. Questa volta, però, avvisami prima dell'esplosione, se non ti dispiace. Non ti assicuro niente. Che roba! Oddio, un cecchino. No, 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 no. Andiamo così. Ho anche il support aereo per voi. Ehi, ma che cazzo! Non dovrebbero spararmi contro! Ma no, certo. Tu li spari. Cosa fai, eh? La mappa della miniera conferma una postazione di controllo ferroviaria. Raggiungila e blocca il treno prima che possa ripartire. Non potrai mai vincere! Vincita, ma... Corazzo, no, 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 no. C'è un tipo qua? C'è un tipo qua? Cerca di raggiungere subito quella torretta, Psyco. Io qui non resisterò ancora a lungo. C'è un tipo qua? C'è, un tipo qua? C'è un tipo qua? Vieni il giro. Vieni fuori! Non so, passo. C'è un tipo qua? Sempre ad attaccare, vero, no? Sempre ad attaccare gli avanti. Amori. Diamine Dai che ci sono anche io qua Dice che è qui Ma qua non c'è niente Io farei una prova qua Merda sembra che qualcuno sia arrivato prima Il treno si sta muovendo Complimenti eh Fottiti Ok No treno non perdermi Non ho ancora un tempo Stimato per l'arrivo del Vitol Sto convincendo i pezzi grossi Non c'è un punto dove bloccarlo Il prossimo è il ponte sul fiume Hang più avanti Ho inviato dei genieri a bloccarlo Quando l'avremo fatto procederemo al recupero del container Ricevuto Olì Ah non ci credo Quei maledetti armieri mi hanno fatto un bel servizio Sono già a secco Sai di ricerca e soccorso scusa che ti aspettavi Già ricerca e soccorso Wow Sai che bello Senti posso ancora aiutarti Ti segnalerò i bersagli dal cielo finché posso Ok Ogni aiuto è gradito Esplodi Vediamoci da fare Con voglio delle pc in arrivo sul binario sinistro Oddio Spariamo alla secco Accampamento dell'epc sul lato destro delle rotaie Fai saltare i serbatoi bianchi Pissà che sono già saltati Dio quanto li odio questi Con voglio delle pc in arrivo sul binario di destra Distrugge la postazione armata frontale con le granate Con voglio armato a ore nove Preparati Ci morirò tante volte qua Pure no Ok Helicottero in arrivo ciao Chi è? Scendi scendi Guarda tu che abbassa No 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 è rifici No ma si è impazzo Ho guardato con gli rifici Appena fuori dal tunnel avrai una piccola postazione delle pc a destra Ho notato Puoi morire In the jungle Ok Non è un rumore normale questo Stai entrando nelle paludi ora Non riesco a vedere più un cavolo Vole in cerchio e aspetta di vederti Ma non mi rimane molto carburante Sappilo Ricevuto O'Neill Grazie di tutto Paludi eh Ok Se è il vostro turno calamari giganti Fatevi vedere Non ho paura di voi Oddio Saico sono Emerson Prophet e Nomad sono riusciti a uscire dalla sfera Molto bene Nomad ha ricevuto l'ordine di tornare alla constitution Chiederò che venga assegnato al recupero del container Non c'è bisogno di Nomad Posso pensarci io al recupero Tu non fai parte della squadra Raptor E allora Sono già qui In posizione E pronto all'impegno E il tuo Vito non è nemmeno equipaggiato a dovere Posso tornare alla base e sistemarlo Allora tanto varrebbe chiamare Nomad Sai che ti dico Vaffancula Nomad O'Neill te lo dico chiaramente Il tuo stato di servizio mi spinge a ritenere che la tua presenza qui metta a rischio la missione e i miei uomini Parlare di stato di servizio non serve signore O'Neill è qui Può velocizzare la missione e sa come gestire un carico Ok Psyco Finora hai avuto ragione Voglio fidarmi di te La decisione è tua Ascolta Psyco Ormai sono a secco Preparerò il Vito per il recupero Tu sai che cosa fare E niente casini stavolta ok Ve lo auguro per te Non si dice Vaffancula Nomad Il treno sta rallentando Non è previsto dal sistema Sta succedendo qualcosa al container Psyco Unità non identificate Il rapido avvicinamento Stanno circondando il container Che cosa vedi Ancora niente Fermate questo treno Oddio C'è un mondo qua Un mondo intero di caricatori e di proiettili E' bellissimo Non mi piace questa storia Oddio Io mi riprendo il mio bel fedele Coso Mia bella armicina E mi nascondo I dati indicano che il bersaglio è il container Difendilo Sta arrivando un'ondata di nemici E ce ne sono altri più lontano Buona fortuna Ti tengo aggiornato Arrivano così A palla Wow Tanta roba Fatteli sotto Bastanti Ha ha Einkomming Bitschus Voi Un Sounds Bello Le 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 Grazie a tutti. Ecco, mi spiace, c'è un'altra ondata in arrivo. No problem. Dio, sono duri questi, eh. Oh, ma ciao. No, voi no. Due ciccioni no. Giù. Giù dal mio treno. Ah, sta per esplodere. Fuori. Ok, Psycho, gli attacchi dovrebbero essere finiti. Resta vicino al container mentre raggiunge il ponte e appena ci arriva, preparati al recupero. Yeee, partiamo di nuovo. Inutili esserini. Alieni. E' ancora vivo. Vabbè, ciao. Vabbè, ciao. Tass è impossibile, non possiamo lasciare il container ai coreani. Ripeto, se non riesci a recuperarlo, distruggi il container. Perché ci siamo fermati? Velocità massima. Forza massima. Oddio. O'Neill, sono sul ponte. O'Neill, mi ricevi? Carica di C4. Cosa, c'era? Allora... Il generale Maledetto generale coreano Morirai 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 Di addio al tuo amico L'abbiamo sorpreso a sabotare il treno Tanti saluti alla convenzione di Ginevra Nomel, kororo, katedrao Morirai 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 Grazie. Dai! Lasciami andare! Fermalo! No! Fallo! Te la caverai! Giù! Bene ragazzi, terminiamo quel video e ci vediamo direttamente al prossimo. Credo, 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 che sia la fine questa, eh. Credo, molto interessante, molto figo, molto figo e molta azione. Quindi vi saluto, ciao a tutti! Ciao!